Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. No ragazzi, purtroppo non è un episodio di Max Horror, anzi è proprio l'ultimo episodio di Max Horror, forza. Allora ragazzi, perché ho messo in pausa Max Horror? Per lo stesso motivo di Max Avventure. Eh, sì, lo potrei fare con Fortress, lo potrei fare perché da solo non lo faccio, però ragazzi, e se cambiassi stile, magari, cos'è questo rumore ragazzi? Cavolo? Ma che cavolo, l'avete sentito pure voi? Io mi sto preoccupando, vabbè, comunque, ragazzi. Lasciando stare questa cosa. Perché? Per lo stesso motivo di Max Avventure. Voi direte, perché? Perché non posso fare i video con, però, per adesso, con Like e Sweet? Perciò ragazzi, lo potrei fare sempre con Fortress. Però volevo cambiare stile, volevo fare delle teorie, tipo, non parlo solo io, ma, per esempio, dico Like, tu cosa ne pensi di questa cosa? E magari Like vi dice una sua opinione, se poteva essere vero oppure no. Però un'opinione che passava a tutti e quattro. Io, Like, Fortress e Sweet. Cioè, ognuno dava la sua opinione. Siccome pensavo di fare Max Horror in questo modo, perciò ho deciso, siccome due dei membri del mio canale, per adesso, non possono fare video con me, quindi mettiamo in pausa un'altra, diciamo, un'altra serie così. Lo so, ragazzi, sono sudato anche perché siamo a luglio e, ragazzi, vi assicuro che c'è caldissimo, anche di sera. Comunque, ragazzi, la stessa cosa di Max Avventure. Potrebbe ritornare, non potrebbe ritornare, potrebbe esserci domani, oppure potrebbe scomparire per sempre. Eh, ragazzi, basta, va. Io qua c'ho paura. Questa luce è spenta, ragazzi, no, grazie. Quindi, aspettiamo e, ragazzi, vedremo cosa ci servirà il futuro. Al destino!